Tutti i giovedì sera canale 633 del digitale terrestre. Sono queste le coordinate già note ai tifosi della Carpegna Prosciutto Basket che sono pronti a tornare insieme a Canestro su Rossini TV. Da giovedì 14 ottobre alle ore 21.20 il canale 633 torna ad essere la casa della VL con la seconda edizione del programma condotto da Marco Cadeddu pronto ad una grande differenza rispetto alla prima edizione. Questa volta tutte le 25 puntate di Insieme a Canestro saranno infatti in diretta tv nonché in diretta sulla pagina facebook per consentire ai tifosi di interagire con gli ospiti in studio. Negli studi di Rossini TV sarà infatti riservato uno spazio social dove sarà data voce ai messaggi che arriveranno via whatsapp al numero 370-366-7210 e ai commenti sulla pagina facebook per far partecipare attivamente tutti gli appassionati di basket. Verranno creati anche dei contest in cui il pubblico che partecipa al programma potrà vincere gadget o biglietti messi in paio dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesero. Lo scorso anno ha vinto il concorso del commento più divertente Maria Chiara Boscia di La Spezia che ha ricevuto la maglietta ufficiale di Marco Filippovic. Tantissimi infatti sono stati telespettatori che da tutta Italia hanno seguito insieme a Canestro grazie anche alla diretta facebook e allo streaming sul sito www.rossinitv.it. Tra gli ospiti della scorsa edizione oltre a giocatori, opinionisti, giornalisti e consorziati anche il coach della nazionale Romeo Sacchetti, la leggenda del basket mondiale Dan Peterson e tantissimi mostri sacri della VL del passato.